Ciao, oggi vediamo la porta XOR, l'OR esclusivo, che si comporta un po' come se fosse un sommatore. Vedremo come sempre simbolo, tabella della verità e un circuito dimostrativo. Iniziamo subito. Trattiamo oggi la porta XOR o XOR, sta per OR esclusivo. Ha un simbolo che ricorda sempre la porta OR, solo che ha sul retro, come vedete, una lineetta incurvata che replica un po' la linea di base. A, anche questo, due ingressi, A e B, e un'uscita O. La sua tabella della verità la tracciamo qui sotto, A, B, O, mettiamo come sempre l'enumerazione completa dei possibili ingressi, quindi si comporta come se fosse una specie di sommatore. Quindi se ho 0 e 1, ho 1, 1, 0, 1, 0, 0 mi fa 0, perché 0 più 0 in binario fa 0, 1 più 1 in binario farebbe 10, cioè 1, 0, e difatti mi riporta lo 0 e perdiamo ovviamente il riporto. Quindi possiamo ricordarci il suo funzionamento come se fosse quello di un sommatore. Dove la possiamo trovare? Un chip di riferimento è l'SN74HC di PocMOS, quindi 86. Se lo volete nella serie 4000, se non sbaglio, c'è il CD4070BE. Noi lo vedremo nel primo tipo. Adesso andremo a costruire il classico circuito, che poi realizzeremo con Tinker, che suona Brebole. Ora, il 74HC86 ha questo layout, quindi 7 più 7, ground su 7, alimentazione su 14, le porte orientate in modo uniforme a tutte le altre porte simili, quindi OR, NOR, eccetera. Andiamo a realizzare un circuito dimostrativo e didattico. Partiamo dallo schema, quindi prendiamo una sola porta, la prima che troviamo sul nostro chip, con i suoi ingressi A e B e l'uscita. Abbiamo l'uscita sul pin 3, gli ingressi sul pin 1 e 2. L'alimentazione la indico qua, sul pin 7 mettiamo il ground, e sul pin 14 l'alimentazione VCC, che sarà di 5V. L'uscita la colleghiamo a una resistenza da 3,90 e un LED, per avere indicazione del funzionamento. Gli ingressi, realizzandoli su TinkerCAD, li andiamo a collegare a due deviatori, in modo che possano assumere in modo stabile una configurazione o l'altra. Ci verrebbe difficile premere due tasti contemporaneamente su TinkerCAD, visto che funziona in un browser. Quindi questi sono i due tasti, da una parte colleghiamo a ground, qui sotto, la parte superiore la andiamo a portare a 5V, in modo che girando da una parte e dall'altra simuliamo il segnale di ingresso. Andiamo a vederla su breadboard, vediamola quindi su TinkerCAD, qui abbiamo già la breadboard, già pronta, con l'alimentatore a 5V, i due switch, quindi interruttore a scorrimento, che prendono da una parte 5V, da quell'altra il ground. Andiamo a cercare il chip, che è un 7486, faccio 7486, vedete che lo troviamo, porta XOR quadrupla, la andiamo a disporre piacere. Provediamo ad aggiungere l'alimentazione, quindi con un filo nero, il ground, e sul 14 mettiamo il 5V, mettiamo il rosso in modo da distinguerlo meglio. Ci serve poi un LED a una resistenza, resistenza da 0.39K, quindi 3.90, la ruotiamo in modo che sia più agevole, la portiamo in corrispondenza dell'uscita, quindi sul pin 3, la devo mettere in questo modo. Prendiamo poi un LED, vado a disporre qui, questo nano del catodo, quindi andiamo a collegare il catodo al ground. Poi il segnale d'ingresso li andiamo a prendere dai nostri switch, quindi pin 1 e 2. Questo è il primo, lasciamolo pure in verde. Secondo pin, andiamo sul 2 e lo portiamo qua sull'altro switch. Facciamo in colore blu per distinguerlo e ora verifichiamo se funziona. Avviamo la simulazione. Entrammo in grassi 0, quindi uscita 0, con uno di questi alto ho 0 più 1, 1. Lo porto a 0, se ho il secondo, stessa cosa. Tutte e due alti ho 1 e 0, quindi vedo 0 spento. Esattamente come previsto. Il video di oggi si conclude qui. Abbiamo completato la panoramica sulle porte semplici utilizzate nell'elettronica digitale e vedremo ora come comporle per fare qualche circuito un po' più complesso. Bene, ti saluto, ti ringrazio, ci vediamo domani. Ciao! Ciao!